I 5 stelle li hanno già fatto sapere che si può e hanno in previsione un'imposta patrimoniale del 12% per tutti noi. Questo dobbiamo dirlo nel rinvento. Uno, l'imposta di successione. Due, le più alte imposte del mondo sulla casa. Tre, l'imposta patrimoniale. Chi vota per i 5 stelle è una persona che non ha ragione, è una persona che non ha tempo.